Passando poi alle drupace parliamo subito di cidia funebrana. Dalla scorsa settimana c'è il volo e ad oggi il volo degli adulti è compreso tra il 20 e il 50%. Da alcuni giorni è iniziata anche la deposizione delle uova. È previsto però l'inizio delle nascite allervali dalla prossima settimana. Anarsia. Abbiamo l'impupamento che è superato l'80%. Ad oggi abbiamo una previsione di inizio del volo tra due settimane. Cidia molesta. È già in corso la prima generazione che sta già raggiungendo il picco massimo di volo degli adulti. Le uova deposte hanno valori compresi tra il 20 e il 40%. Le larve nate hanno valori compresi tra il 15 ed il 20%. Tignoletta della vite. È già iniziata la prima generazione ed abbiamo un volo adulti compreso tra il 20 e il 40%. In questa settimana è iniziata la deposizione delle uova. Ricordo però che normalmente la prima generazione non viene trattata. Bene, noi adesso ci ascoltiamo le indicazioni per la difesa delle drupacee. Ci sentiamo dopo per un ultimo aggiornamento relativo al grano. Parlando adesso di drupacee, un accenno alla bolla del pesco per dire che non si segnalano attacchi particolarmente significativi per cui non si ravvede la necessità di intervenire. Qualora vi fosse qualche getto, qualche foglia colpita, la possibilità di utilizzare zolfo ci dà una mano contro questa patologia, considerando che lo zolfo ha anche un effetto sull'oidio e contro i nerumi. Per quello che riguarda invece gli insetti delle drupacee e del pesco, in questo caso, vi parlo di afide verde. Ricordandovi la soglia, per poter intervenire contro l'afide, è il 3% di germogli infestati sulle nettarine e il 10% invece sulle pesche. Rapidamente i prodotti sono i neonicotinoidi, quindi i midacloprid, tiametoxan o acetamiprid. Questi prodotti si possono usare uno in alternativa all'altro, quindi non uno e uno e uno, ma uno soltanto, ed una sola volta all'anno. L'utilizzo è ovviamente influenzato dall'eventuale prodotto che è utilizzato in prefioritura. Altri principi attivi che possiamo utilizzare sono i flonicamidi, il prodotto commerciale è il tepechi, e il clotanidin, il dantop, 50 VG, utilizzabili anch'essi una volta sola all'anno. Quest'ultimo prodotto ha 12 metri di distanza di rispetto dai corsi di acqua. Un accenno adesso all'acidia molesta, sempre nel pesco. Nelle aziende in cui non si applica il metodo della confusione e sono state effettuate almeno 30 catture nelle settimane precedenti, possiamo intervenire utilizzando sostanzialmente in questa fase due prodotti, il metoxifenoside, cioè il prodigi, oppure il coragen. Entrambi questi prodotti possono essere impiegati due volte all'anno. Ricordo che il coragen, come distanza dai corsi d'acqua, ha 15 metri. Per quello che riguarda invece un'altra drupacea, cioè il susino, dalla fase di caduta petali, sempre considerando le catture in prefioritura o un eventuale attacco ai frutticini, c'è la possibilità di intervenire contro tentredine. Il prodotto di riferimento per questa avversità è l'imidacloprid, che può essere usato una sola volta all'anno ed ha anche un effetto collaterale sugli afidi. Per quello che riguarda invece cidia funebrana, si devono collocare le trappole, anzi avrebbero già dovuto essere collocate ed eventualmente, per chi opta per questo metodo, montare la conclusione sessuale. Un accenno alla vite per ricordare che le varietà che hanno già i tralci sufficientemente sviluppati, in caso di pioggia dovrà incominciare la difesa contro la peronospora, con rameici, con mancozeb o con metiram. La parte che riguarda il medico a questo punto si è conclusa, non mi resta che salutarvi e darvi l'appuntamento per la prossima settimana. E chiudiamo con il grano. Contro le fusariosi, sulle varietà sensibili ed in particolare sui grani duri, in previsione delle piogge del periodo pasquale, si consiglia di intervenire sugli impianti che sono ad inizio fioritura. E con questo ho concluso, saluto tutti, ci vediamo fra 7 giorni. Grazie a tutti.